Perfetto, mi sono diviso una cosa Non andiamo nella taverna per fare i punti abilità perché ci uccide tutta quella musica potentissima Che cos'è questo? Ah, invece che la spasa, la spasa usa l'arco Il meno 4 coraggio al nemico e 100% di danno invece che 80 Quindi il coraggio fa rallentare il turno del bersaglio Questo però mi interessa, che riduce le statistiche da lontano Aumentiamo la forza Qui abbiamo... Che differenza c'era fra questo? Ah, questo è ranged No Sì, questa è un'altra di quelle skill cattive E ti diamo più forza, no Questo Più 10% di danno e precisione se il bersaglio soffre di uno status Status Facciamo diventare l'elfo immune anche al burning E ti do, che ti do Questo cura ancora di più Questa è la kill che gli ridà il punto azione se non ricordo male E ora si dai Prendiamoci la fiamme della fenice Max astral energy, quindi mana di più Per il nano andiamo sulla skill che cerca di spostare il suo bersaglio E ti aumentiamo la perri Questa è la skill è carina però Cioè fa il 300% di danno ma in due turni Quindi se il bersaglio non è immobilizzato se ne va Se ne va sciallo sciallo Lo sprint Così vai più lontano Sposta di due tile oppure lo stun Quello del due tile è sempre comodo per fare gli attacchi combo Oppure mandarlo contro qualcosa che esplode Facciamo lo stun semplice Facciamo tutta stun questa run Questa run E l'attacco del terremoto Poisonstone Interessing Questa che gli da un pochino più di range perché lui soffre veramente tanto la distanza Più danno ancora Signora Preta Questo fa un sacco di danno però due alleati devono essere con la vita bassa Allora questo abbiamo la variante che prende quattro nemici Cioè prende quattro bersagli e gli fa un bel po' di danno Questo sempre sempre tre ma non colpisce gli alleati mi piace questo molto rischioso E poi che c'hai? Rigenera Rigenera Intelligenza Intelligenza lei gli da Gli aumenta la precisione Basato sul carisma Intelligenza Aumenta la precisione basato sul carisma Ok Mi fido Mi fido Vorrei prendere adesso delle armi un pochino più seria Hanno tutti l'arma base se vuol dire Quindi sta sempre 2007 Sicuramente il barbaro e la dobbiamo prendere Allora questa c'ha una descrizione extra ogni colpo andato a segno da più due di impatto fino alla fine della battaglia Quindi più colpisce più diventa forte Questa No Non piange perché spendiamo i soldi Martello per l'ogre 45-60 Però già c'ha un'arma che non ce l'ha per niente lui Una chance su tre di tagliare il tendine al bersaglio Questa mi piace Oppure anche lui che più colpisce più fa male Più colpisce più fa male Più colpisce più fa male Mettiamoglie Carina Ah ma ci stanno io davanti e si vede poco E' carina sulla fiducia Un pioce più fa male Un po' con i miei bambini E' un po' con i miei bambini Questo sarebbe sempre per il nano Terry proprio Che se ne va Che se ne vola Questo per il TF Ok per ora abbiamo finito di comprare la roba Via con il prossimo fight Non vado neanche a vedere com'è tanto Quel che c'è c'è Senti hai rotto il capo sti cacchiere Dico bene Questi due hanno un sacco di vita Questi due hanno un casino di vita Tra i 95 Ministrello cattivo Molto carini questi Bisogna stare molto attenti qui 150 Eh devo stare in guardia Non l'ho posizionati Sono partito direttamente Che idiota Sì vabbè Hai usato tipo 4 punti azione Ci ho finta di niente Ho una brutta sensazione Per questo fight L'hanno è impassibile Credo che mi conviene Non stare qua giù Perché se no Mi prendono loro Che sono un pochino più Più morbidine Di portare tutto il più avanti Che posso In diagonale funziona la skill Sì Qual è la 3 Allora questi ci vengono addosso Proprio in un attimo Che l'arena è microscopica Da qui Da qui dice che me li prendi Ok Io me fido Adoro questa skill Ha dato pure a fuoco Cioè Veramente OP Tra Infatti Se io vado qui Potrei anche lanciare il nano E ammazzare già un bersaglio Oppure metterlo qua E fargli fare da esca per loro Ah tu Tu sei già andato Lui pure E Come facciamo Questo chi è? E questo qui davanti Sì Ti voglio proprio mandare Già a menare davanti Molto rischioso Anche questo Ah Così non prendo il ranger Cioè non prendo A quell'altra Il fulmine Ok È in sicurezza Prossimo turno Ci tiriamo il buff Alla squadra For the horde Uè Vibes dal passato Ti ucciderebbe No Ah Speravo più di colpire lui Perché i troll C'hanno La rigenerazione Ci interessa poco Fargli sti danni qui Lì mi vedi Ok E noi si va di qua 3 3 3 Il marzotto Che va in stealth Si chiama Marza Questo personaggio Si chiama Marza Questo personaggio Spratto È morta Porca troia Vorrei tanto Stunnarti Eh sì Ci hai fatto emozionare Direi proprio di sì Cosa ti posso far fare Dubito di riuscire a farcela Perché loro c'hanno Un sacco di physical resistance Non mi conviene Menare normale E spostarmi Per quanto È rimasto Per se Ah ma se vado qui Non subisco L'attacco D'opportunità Perfetto Perché Sono tipo I 3 tiles Davanti Grande Grande Il troll congelato Grandissimo Madonna vengo Lì ti do Una lasca Nei denti Ora Ti mobilizza Oh sì Chissà se non si sposta O si sposta Lo stesso Quello quando c'è andato Lì dietro Pentito De quest'ora Il nostro Teff Che anche ora Mi ha fatto Una scelchia Oh no Arrivano i rinforzi Queste sono le icone Dei rinforzi Chi arriva? Chi cavolo Arriva? Non me lo dice Allora no Ti tengo Ancora invisibile Te Ecco gli zombie Ah eh sì È rimasto lì Au 30 E miss E vabbè Quando vai? Questo se ne sta buono Per un po' Ti diamo anche Il veleno No Ha resistito Tre 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 Bella botta proprio Bella Bella Ancora Come ventinove Hai tolto Ah Giusto Armor Breaker Quindi prossimo turno Ancora più danni Prende Aeo Alzite Facciamo gli Tanta bua Che questo viene Subito a menarci Le Le signorine Qui Questo è il danno Non mi ricordo mai Cosa fa Massive Damage Metti tre Va bene Dai Che cazzo mi metto Ma già posso dargli Di camminare così Ok Mi fa andare meno Lontano 169 Ma quanto cazzo Gli hai fatto male Ma sei una bestia Ma come cavolo hai fatto A farti così tanto male Sfacciamo un passettino Sfacciamo un passettino sopra Prendiamo anche il ranger Cioè Certo Sì il ranger Ok Oddio Se per qualche motivo Il troller non si immobilizza per un altro turno Il tf è morto Ok Ci sta pensando Bene Ancora potrebbe sopravvivere Ma che c'è un altro Cioè Ancora Ma finisci di fare quella cosa Qualsiasi cosa sia Ma ha fatto doppio turno Oh no Era il tuo Non lo so Cosa è successo Critica il perry Danno riflesso Vecchio riflesso Sputa Cazzo che botta Vorrei tirare L'onda d'urto Qui dietro Ok Ci abbiamo preso Bene 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 Chi lo facciamo dare il colpo di grazia Ma veniamola al 100% va Voglio non rischiare Vediamo se ce la fa Stunnarlo Cioè a spingerlo via Corchè Avrà un quintale De punti Come resistenza ai danni Sto coso Come fisica Da resistance Ma come fai andare via Con uno di vita Qui ci responano i nemici Attacco normale Ho tolto la sega Ho tolto la sega E zalve Mega rissa qui Qui stanno per spawnare un po' Troppi nemici Mannaggia Oddio 30% Non è niente Perché non posso fare l'overwatch Scusa Questa skin non può essere utilizzata Non ho capito perché Mi sfugge Madonna Ha subito dei danni Povera stella Che non finiscono più Vieni 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 là vicino a noi No Non mi sputare Mi ha sputato Non so se questi Stanno continuando ad arrivare Perché è vivo Lui Che potarsi Barra Bravo Mi sa che non l'ha schivato Scemo io che l'ho mandato lì vicino Convento di fargli fare chissà che Questo menestrello C'ha una resistenza a tutto Che è imbarazzante Uiai Doppio colpo Grande L'ha preso Colpo potenziato Madonna Madonna Quando me la uccide Eh Quella è la skill Che l'ha salvata Ma Non so Quanto durerà Non lo so Il nano Lo potrei Effettivamente Tirare Quaggiù Usiamola Come Ultima Risorsa No no Colpisci Lo normale Potrei infatti Curare me stesso Vediamo 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 Prima schivata Lo sputo Non lo schiva Sta prendendo Una brutta piega Questo fight Molto brutta Molto brutta Energy drain Cazzo Ok Lui è praticamente Morto Si spera Che il nano Non ci faccia Qualche cappella Ovviamente Basta chiamarle Succedono subito Vorrei Poter Poter congelare Il menestrello Il menestrello Pericolosissimo Magical resistance 71 Loro c'hanno 20 Quindi forse Loro li congelo Più facilmente Uno si dai Il ranger Gli facciamo Ressare Cioè L'elfo Facciamo Ressare Il ranger Magari Ti sto vicino Apposta Per non farti Fare cose Per farti Sprecare Un'azione Allora potrei Usare Queste skill Quaggiù Che si ricaricano Nel tempo Di tutta la partita E tirare Su a lui Però qui Sono praticamente Risolte Ormai Un critico Con la staffa Ora la maga Ci abbandona Come sono pessimista Ecco Nasconditi Debra Non ho ancora visto Cosa fa Questo Debuff Che mi fa Ah L'ho fatta Anche voi Critica Il failure Bagassai Perché non ti Giri verso Di me Anzi Non cade Perché Che è Alleluia Questo vorrei Lasciartelo Fare da solo Perché qua Non ci abbiamo Altri Veri Sono Uno Due Tre Sì Vorrei Signor Nanno Che lei Vada Di qua Da qui Arrivi Con l'arco No Allora Andiamo Subito Avanti Scegliete Da lei Tu sei congelato Per un altro Turno Invece No Merda Ma è vocale Galliene Che cazzo Quando fa così Mannaggia Ah ma io ti posso Tirare il nano Ma ci divertiamo Così Allora Nanetto Hop Oh yes Magna che è buono Bravo Così A caso Non credo Che tu Riesca A colpirmi Se vado Qua così Perfetto Lui c'ha 99 126 Facciamo Così La cosa Salutiamo Il Steph A loro Non siamo messi Bene Ancora Finchè c'è vivo Il menestrello Può succedere L'impossibile Doppio Ah lui non c'ha la cura da distanza No Sotto cielo Mi divertito di prenderlo a calci Molto bene che è stunnato Posso andare qui Sì E prendere anche lui La testa E siamo noi Pompompompompom Healing touch Ah purtroppo Deve comunque aspettare in turno Lei Vabbè Quante gliene stanno tirando L'ho proprio fatta andare su un angolino A soffrire Bravo Nasconditi Con questa skill Mi confondo Sempre Quindi da qui Ah dovrei essere qui Dove il ranger Per poterlo colpire Ah no Ti voglio sparare Cazzarola 18% è poco Con quale skill ti colpisco 11% Ma mi sembra estremamente poco Ma mi sembra estremamente poco 11% Così Ah così te prendo però A finisce ricerca La senti E ora facciamo il terremoto Ciao 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 Bene Ce l'abbiamo fatta Di nuovo Però c'è il tedio Della Roba finale Questa è ancora Stunnato No Gli è passata No Non fare dodge Sai quanto ci rallenta Sta cosa ora Mannaggia te Cavoli Cazzo fatto Abitudine Non c'era assolutamente Bisogno di restarlo Stiamo arrivando Perfetto Ah Troppo lontano Vabbè ma schippa Ok Eh Questa è stata un po' di dolore Un pochino